A poche settimane dalle elezioni è scontro nel consiglio di quartiere Verbagna Est. Motivo della discussione un comunicato stampa inviato dallo storico presidente del quartiere Ettore Francioli che riguardava i parcheggi e la viabilità alla scuola elementare di Torchiedo. Le elementari sono da sempre un fiore all'occhiello del quartiere, ha scritto Francioli, ma anche per la conformazione di Torchiedo, un problema quando le auto dei genitori si accalcano per portare e prendere i figli al mattino o al pomeriggio. Il post-covid ha peggiorato questa situazione, la scuola ha scaglionato per ragioni sanitarie, gli orari di ingresso e uscita, ampliando la finestra temporale ed è stato sospeso l'utile servizio di Piedibus di cui la scuola è stata precursore in città. La nota prosegue con le proposte illustrate. Innanzitutto, ha detto Francioli, chiederemo se c'è stata l'emergenza sanitaria, la scuola può ripristinare l'orario unico di ingresso e uscita, verrà sollecitata la riattivazione del Piedibus. È stata inoltre ventilata l'ipotesi di sistemare il tratto est di via Monterosa, una strada vicinale interdetta alle auto che dall'ingresso principale della scuola porta a via Intrapremino. C'è inoltre l'interesse, confermato in riunione da uno delle persone coinvolte, di alcuni privati ad acquistare il terreno, il triangolo tra via Monterosa e via Prato dell'Oca, confinante con la scuola, per realizzare garage e un lastrico solare che diventerebbe posteggio pubblico. Queste ipotesi sono state illustrate al sindaco che le ha recepite avviando una valutazione complessiva. Sul comunicato sono intervenuti i consiglieri Sergio Baldan, Gianfranco Bini, Alessio Combia e Mario Giordano, che hanno contestato la scelta del presidente di condividere con gli organi di informazione i temi che sarebbero stati discussi nella prossima riunione e tacciano Francioli di protagonismo mediatico, invitandolo a cambiare atteggiamento. Non è mancata la replica del presidente Francioli. Purtroppo, come era facilmente immaginabile, la politica è entrata anche nel consiglio di quartiere. Dopo che il movimento politico di Gian Domenico Albertella ha rivendicato di avere eletto proprio i rappresentanti tutti i quartieri, compreso quello di Verbagna Est, si è inscenato un triste spettacolo politico.